Partite! Siamo ora in retta di arrivo poco prima delle intersezioni delle piste con il leggero vantaggio Tamarville. Ora è Lecadre Scenic che rompe gli induggi trascinandosi Itinere. Più a centropista insegue Olly Grace con all'argo di tutti Baddei. Lecadre Scenic è sotto l'attacco ora di Itinere mentre più all'argo cerca di unirsi alla lotta anche Baddei. Siamo nel tratto finale, Lecadre Scenic nei confronti di Itinere quindi Baddei che si avvicina nel tratto conclusivo. Lecadre Scenic mantiene la meglio nettamente mentre per il secondo posto Baddei appariglia sul palo Itinere a ridosso anche anni buttati. Andiamo a rivedere le immagini con Lecadre Scenic e Samuele Diana numero 4 dello schieramento a bersaglio mentre per il posto d'onore Carletto Fiocchi in sella Baddei piega di misura l'1 di Itinere al quarto il 3. Quindi l'ordine d'arrivo ufficioso e probabile di questa scritta cosa di Napoli è 4-2-1.